Simone Resta, un nuovo nome per il mondo di Scuderia Ferrari. Puoi dire qualcosa di tua carriera e tua storia in Ferrari? Beh, sono 42 anni, sono casato con due figli. Ho iniziato la mia carriera in Minardi Formula 1 team, dove ho lavorato per un po' anni. E poi ho arrivato a Ferrari e ho sviluppato la mia carriera con diversi passaggi. Dari designer, coordinatore di gruppo di designer, head of R&D e, finalmente, head of coordinating, let's say, il progetto del 2013. Questo anno, come sai, la nostra organizazione ha cambiato, splitendo il team design in due gruppi, uno che seguì questo anno e uno che seguì il prossimo anno. In effetti, sto chiedendo il team 2013 sotto la coordinazione di Nicola Tombasi, il chief designer di Nicola Tombasi e anche con il supporto di Pat Frey, il director tecnico. Il F138 è, diciamo, il tuo primo carriera. Potete descriverlo e darci alcuni dettagli su questo brand-new single-seater? Questo nuovo progetto è stato sviluppato con una sorta di continuità delle regole, dove avevamo solo alcuni cambiamenti, principalmente con il cover di nose, l'estatico e i diversi usaggi del DRS durante il weekend di race. Inoltre, inoltre questi minor cambiamenti dal punto di vista della regola, abbiamo modificato e lavorato su tutte le regioni del carro, cercando di migliorare tutto ciò che potessi. inoltre i migliori cambiamenti hanno avuto la fronte, con una versione migliorata del layout, con una completamente nuova, differente rear suspension. Abbiamo realizzato il design di side pod, cercando di migliorare l'aerodinamica di questa area, e il layout completamente nuovo dell'exhaust sistema, dove abbiamo sentito che abbiamo avuto una grande quantità di performance per ottenere con una nuova carriera. Inoltre i migliori i migliori i migliori i migliori in 6 settimane, sarà molto diverso da oggi? Penso che sì. In le settimane, i migliori i migliori i migliori, abbiamo avuto l'opportunità di aumentare la performance del carro, quindi credo che il F138 sarà molto diverso dal test 1 al primo. E sperimentalmente più veloce. Sì, sperimentalmente più veloce. E sperimentalmente più veloce. Guardando la carriera oggi, sei felice con il lavoro che hai fatto? Sì, diciamo che sono riuscimamente felice. La performance per essere recuperata era significativa, non possiamo farlo dietro, ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro in tutte le zone. Ho cercato di coprire tutti i punti e quindi credo che sono abbastanza felice con quello che abbiamo avuto. a tutti. Grazie. 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 Grazie.